Che cos'ho che non va? No, no, si vede subito che lei ha un tifaccio poco ma comandabile. Il fisico, la postura, l'espressione degli occhi, tutto. Lei è truce, patibolare, mi attanaglia un terrore cieco al sonno guardare, mi è streit, mi dice che lei è frumpe, sciai. Guarda che io sono davvero un tifo proprio ma comandabile. Ah 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 ah, ho frequentato gli uomini tutta la vita, li conosco bene, lei è solo un poveraccio, sta solo al gradino più basso della gerarchia. E' fredoso, fredoso? Adesso te lo faccio vedere io se sono fredoso. Ma te sei fatta eh, non è mica normale, ma una come te bisogna difendersi. Lei è un figliacro, perfino i suoi schiaffi non hanno qualità, sono dei figli di un servo, di un subalterno, per usare a schiaffeggiare una donna necessaria a un'autorevolezza che inviti immediatamente al perdono. Lei non sa neppure di cosa io stia parlando, vero? E infatti non capisco una sola parola di quello che dici, ma adesso finalmente tra i fitta, c'è una pannantina, che? Lei non sa neppure di cosa io stia parlando,